Quali sono gli elementi più utili che un ingegnere informatico può sfruttare per poter trovare lavoro? Quest'oggi non parleremo solo di cosa andare a inserire all'interno del curriculum, ma vedremo anche quali strumenti può utilizzare un ingegnere informatico per poter trovare l'azienda che gli piace, per la quale vuole andare a lavorare e tramite questi strumenti effettivamente ha la possibilità di potersi candidare a un'offerta di lavoro per quell'azienda. Ma cosa più importante è in grado di rendersi interessante per quell'azienda. Come molti di voi sanno già io sono un ingegnere informatico e nel tempo quindi a partire fin dagli anni della scuola mi sono costruito un setup, un set di elementi che utilizzo per candidarmi al mondo del lavoro, quindi alle aziende. In realtà adesso è un po' il contrario, cioè sono le aziende che vengono a cercare te e appunto per questo voglio parlarvi di questa cosa qui perché magari vi può tornare utile. Anche perché al momento ricevo praticamente un'offerta di lavoro alla settimana e insomma mi dispiace non aver neanche la possibilità di rispondere perché sono veramente impegnato. In ogni caso il primo elemento importante che dobbiamo avere tutti è LinkedIn, però anche qui non è sufficiente avere LinkedIn, avere il profilo con quattro cose in croce scritte. Bisogna creare un profilo ricco che vi descrive a 360 gradi da un punto di vista delle vostre conoscenze e competenze. Inoltre questo profilo va aggiornato periodicamente, ad esempio ogni tre mesi. LinkedIn è un ottimo strumento per andare a creare un proprio profilo. Non confondete LinkedIn come un semplice sito dove andate a cercare offerte di lavoro. LinkedIn è un social network, quindi ci sono anche persone che vi chiedono il collegamento semplicemente per seguire quello che fate. Sono interessate a voi, alle vostre competenze, ai progetti che portate avanti eccetera eccetera. La prima cosa importante da andare a inserire all'interno di LinkedIn sono le proprie conoscenze e competenze. C'è una sezione apposta dove ad esempio possiamo inserire i linguaggi di programmazione che conosciamo, le librerie che conosciamo, gli strumenti software. Qui c'è la possibilità di farsi confermare queste competenze da i propri collegamenti, quindi se avete dei colleghi su LinkedIn mandategli il collegamento, magari gli chiedete di confermarvi queste conoscenze e inoltre LinkedIn dà la possibilità di verificare queste conoscenze con dei test, sono tipo delle verifiche, degli esami. Anche questa cosa qui è interessante. Per fare un test ci mettete 15 minuti e poi LinkedIn vi dà un badge. LinkedIn utilizza anche le vostre competenze, quelle che avete inserito, per diciamo per inviarvi ogni tanto un set di offerte di lavoro che voi potete valutare, alle quali potete candidarvi. Quindi LinkedIn naturalmente analizza di continuo il vostro profilo. Un'altra cosa importante da inserire naturalmente sono le esperienze di lavoro che avete fatto. Naturalmente è meglio inserire quelle inerenti al percorso che volete fare da adesso in poi. Quindi se ad esempio sono un ingegnere informatico ma ho lavorato in pizzeria per durante gli anni dell'università per riuscire a arrotondare, ecco è vero che è un'esperienza di lavoro ma diciamo che non dice molto sulle vostre competenze in ambito ingegneristico. Sempre per quanto riguarda i lavori che andate a inserire, quelli che avete già fatto, se avete lavorato per un'azienda in tirocinio oppure avete lavorato effettivamente con un contratto tempo determinato, indeterminato, apprendistato. Non dovete inserire solo ho fatto l'ingegnere del software presso questa azienda e basta. Dovete inserire che cosa avete fatto, che linguaggio avete utilizzato, di programmazione, le librerie che avete utilizzato, se vi siete occupati di un particolare settore, quindi ad esempio magari sono andato a lavorare in un'azienda di automotive e ho lavorato la parte infotainment dell'automobile creando delle interfacce, ecco una descrizione abbastanza adeguata del lavoro che avete svolto. Chi viene a leggere il vostro profilo vuole sapere nel dettaglio che cosa avete fatto, perché comunque se avete lavorato lì anche solo sei mesi, in sei mesi diciamo che riuscite a crearvi comunque un background di conoscenze in quel settore specifico. Naturalmente oltre al lavoro pagato c'è anche il volontariato, eventualmente se avete fatto il volontariato presso la Croce Rossa o altre associazioni inserite anche queste cose qui che possono essere sempre interessanti. Un'altra cosa super importante da inserire nel vostro profilo sono i progetti che avete realizzato. Potete inserire magari dei progetti che avete fatto con un'azienda, dei progetti che avete fatto per i cavoli vostri o dei progetti che avete fatto per l'università. Ad esempio io, il progetto Fermensem che ho sviluppato con un mio collega per un esame dell'università, l'ho descritto in modo adeguato e l'ho inserito nella sezione progetti di LinkedIn. Ora parliamo meglio di LinkedIn perché come vi ho detto non è solo uno strumento per cercare lavoro, ma diciamo che è uno strumento per fare anche un po' di networking. Infatti il vostro profilo risulta molto più interessante se avete tanti collegamenti, quindi tante persone che vi seguono. Naturalmente non andate a chiedere collegamenti a cani e porci, selezionate bene con chi vi andarvi a collegare, specialmente vi consiglio di collegarvi con le persone che conoscete. Ah giusto, un'ultima cosa importante da inserire all'interno del profilo di LinkedIn, oltre al vostro curriculum che in formato PDF che potete strutturalmente copiare da come è fatto il profilo di LinkedIn, vi consiglio anche di inserire eventuali brevetti oppure licenze, certificazioni che avete ottenuto, ad esempio certificazioni in lingua, oppure io ho fatto un corso su Coursera di 3D printing hardware, ho preso il certificato e naturalmente l'ho inserito all'interno del mio profilo. Tornando a LinkedIn, questo è un home page dove voi potete vedere i post che vanno a pubblicare le aziende, quindi potete tenervi aggiornati con le aziende. Questo è importante perché se ci sono delle aziende per le quali volete andare a lavorare, naturalmente quando andate a sostenere un colloquio di lavoro con queste aziende, diciamo non dovete solo fargli capire che avete le competenze per lavorare in quell'azienda, ma dovete anche conoscere di cosa l'azienda si è occupata fino ad ora e di cosa l'azienda si sta occupando in questo specifico momento. Se ad esempio vado a lavorare sempre per un'azienda di automotive che prima faceva solo le centraline, adesso sta sviluppando dei sistemi di guida autonoma, ecco se conosco quest'ambito perché magari l'ho studiato all'università ma poi so anche su quali aspetti della guida autonoma si sta concentrando questa azienda, ecco naturalmente fate una bella figura durante il colloquio di lavoro. Oltre a LinkedIn però ci sono altri strumenti fondamentali che secondo me, ma anche secondo altri, è meglio avere se sei un ingegnere informatico, ma anche un informatico, cioè se siete o studenti che si sono appena diplomati dalla scuola o se studiate scienze informatiche o se siete ingegneri informatici, diciamo che questi strumenti potete utilizzarli, perché il prossimo strumento che non può assolutamente mancare è GitHub. GitHub è una repository online che va a racchiudere tutti i progetti che avete realizzato e ai quali avete partecipato. In sostanza io su GitHub posso caricare i miei progetti, posso decidere se renderli privati o pubblici, ma vi consiglio di tenerli pubblici perché sennò non li vedono e anche questo fa curriculum. Ci sono aziende che vengono a vedere che cosa avete scritto all'interno del codice che avete pubblicato su GitHub. Inoltre saper utilizzare GitHub è molto importante perché nelle aziende ovviamente si lavora in team, quindi già il fatto che voi sapete utilizzare GitHub e di conseguenza siete già in grado di lavorare con un team sotto questo punto di vista, quindi condividere codice, fare delle commity in modo corretto, fare delle fork, fare dei branch. Questa cosa naturalmente l'azienda l'apprezza, soprattutto se questa azienda vuole prendervi come sviluppatori software. E qui apriamo una piccola parentesi per l'azienda perché ci sono tantissime aziende che vanno dagli ingegneri informatici e gli propongono di fare gli sviluppatori software. Ecco, quando un ragazzo o una ragazza sceglie il percorso di ingegneria informatica spesso è perché forse gli piace un po' più la parte scientifico-matematica della materia rispetto alla programmazione, quindi col fatto anche che chi fa scienze informatiche è nettamente più esperto in programmazione di un ingegneri informatico, ecco, forse come sviluppatori software sono dei migliori candidati quelli che escono da scienze informatiche. Chiuso la piccola parentesi. Per quanto riguarda sempre GitHub c'è un'altra cosa importantissima che potete fare, ovvero partecipare a progetti open source. Il codice open source dei progetti naturalmente importanti come ad esempio Firefox, Linux, PyTorch eccetera eccetera, da un punto di vista di programmazione è codice veramente ma veramente scritto bene. Il codice open source è codice veramente di alta qualità, quindi se siete in grado di mettere mano al codice lì, quindi di fixare ad esempio dei bug e di partecipare attivamente alla scrittura del codice open source, questa è una cosa che le aziende apprezzano tantissimo, perché siete in grado di lavorare in team con delle persone che non conoscete, siete in grado appunto di lavorare dei progetti che non sono il progettino per la nonna ma progetti veramente importanti, software utilizzati da centinaia di migliaia, decine di migliaia o milioni di persone e questo naturalmente diciamo che certifica abbastanza bene le vostre competenze. Un'ultima cosa interessante per le aziende è se avete un profilo Stack Overflow. Stack Overflow è un social network utilizzato da chi scrive codice per porre delle domande riguardanti dei problemi che ha riscontrato all'interno del proprio codice. Partecipare attivamente su Stack Overflow è comunque un modo per certificare le proprie competenze, soprattutto se vi beccate il flag verde. Il flag verde di solito viene dato alla risposta che contestualizza meglio e che descrive al meglio la risoluzione di un problema che è stato posto. Anche qui ad esempio nel vostro tempo libero potete andare a rispondere a delle domande su Stack Overflow. Naturalmente sia GitHub che Stack Overflow sono degli elementi che potete andare a inserire su LinkedIn, quindi a linkare ad esempio nel vostro curriculum o all'interno del vostro profilo. Detto questo raga io spero di aver trattato tutto. Naturalmente questi sono dei consigli che vi do, ci sono tantissimi modi per candidarsi a delle offerte di lavoro. Diciamo che LinkedIn ad esempio GitHub e Stack Overflow in combo sono molto comodi anche per proporsi ad aziende importanti e aziende all'estero. Quindi raga se avete trovato utile questo video lasciateci assolutamente un like così l'algoritmo di YouTube lo spinge in alto e altre persone diciamo possono avere la possibilità di vederlo. Io torno a fare Power Electronics perché siamo a maggio e fra poco ci sono gli esami e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!